U and D. Alessio Cenicola su Samantha Curcio ammette. Non era la donna per me. U and D. Alessio Cenicola ammette. Samantha Curcio? Non era la donna per me. U and D. Alessio Cenicola. Ancora una volta? Alessio Cenicola un ex volto di uomini e donne ha rotto il silenzio sulla fine della sua storia d'amore con Samantha Curcio. L'ex corteggiatore del dating show condotto da Maria De Filippi in un'intervista concessa a Mondo TV 24. Dopo aver sottolineato di non avere più alcun tipo di rapporto con l'ex tronista ha ammesso. Non era la donna per me. Però le auguro il meglio e di ottenere tutto quello che vuole dalla vita. Alessio Cenicola torna a parlare della rottura con Samantha Curcio dopo U and D. Sono successi vari avvenimenti. Alessio Cenicola un ex protagonista di Uomini e Donne ai microfoni di Mondo TV 24 ha svelato dei nuovi retroscena sulla sua rottura con Samantha Curcio. L'ex corteggiatore alla domanda se continua a sentirsi con la sua ex fidanzata ha risposto con queste parole. Sono successi vari avvenimenti che alla fine hanno portato alla conclusione della nostra storia. Che ci tengo a dire era vera e sentita da entrambe le parti. Questi avvenimenti mi hanno allontanato molto da lei e mi hanno portato alla consapevolezza che lei non era quello che volevo. U and D. Alessio Cenicola e Samantha Curcio non si rivolgono più la parola? Lui. Non sono buonissimi i nostri rapporti. Alessio Cenicola a questo punto ha fatto sapere se lui e Samantha Curcio si rivolgono ancora la parola. Dopo la fine della loro relazione. A oggi i nostri rapporti non sono buonissimi. Non ho digerito delle cose che sono successe. Quindi diciamo che sono un po' altalenanti. L'ex corteggiatore di uomini e donne nonostante ciò ha elogiato la sua ex fidanzata. Che di recente ha detto che per lei sono stati dei mesi molto difficili. Non potrei non conservare un buon ricordo e una buona valutazione sulla sua persona. E, una bravissima persona. Una grande donna. Questo non lo metterò mai in dubbio perché è quello che penso.